Il caso di Denise Pipitone torna al centro della trasmissione Chi l'ha visto dirà i 3. Leggi anche, Denise Pipitone, Piera Maggio si sfoga, vogliono farmi stare zitta. Nuova segnalazione su Denise Porte in Tunisia. Raggiunto dai microfoni, il sindaco di Mazzara del Vallo, Salvatore Quinci, si è espresso sulla vicenda. La nostra città ha un debito, non siamo riusciti a capire il dolore e la frustrazione di questa mamma che urlava la sua richiesta di verità ha dichiarato il sindaco. Anche il vescovo di Mazzara del Vallo, Monsignor Mogavero, ha fatto il suo appello davanti alle telecamere della trasmissione. Il vescovo ha pubblicamente chiesto a chissà qualcosa e ancora non parla di dire la verità e liberare la coscienza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.